Ti volevo chiedere anche come era questo, cioè fare il medico in famiglia, come è stato? Perché comunque effettivamente era forse la serie più seguita. Era una cosa incredibile. La mia fortuna è stata che non la conoscevo e poi ho avuto la fortuna di... Per esempio ho lavorato con i giovanissimi, io ho lavorato con Edoardo Leo che cominciava con Stefano Fresi e poi c'era Milena Vukotic per esempio, che comunque era una che aveva lavorato con Buñuel, con Tarkovsky, con Fellini. Cioè c'era una della grande professionalità. E poi ho avuto la fortuna di avere un regista perché il mio dramma era che... Allora, mi hanno spiegato quelli della Rai perché vista il successo di queste due puntate mi hanno detto, oh ma lo sai che forse vuoi fare sto medico, io lo chiamo il medico in feniglia, ma che ne pensi? Ti va? Per cui mi sono messo sta cosa da pizzicarolo, ho fatto sto provino, questa cosa. Ok, perché Scarpati non gli aveva già più. Aveva fatto due serie, di cui la prima credo che avessero girato un anno e mezzo di seguito. Ok? E neanche con l'orario di adesso che è o la francese otto ore o le dieci ore, giravano tipo quattordici ore per un anno e mezzo. Tra l'altro il medico in famiglia si pensava che dovesse andare tipo alle sei di pomeriggio. Cioè era una cosa proprio pomeriggia, invece ha avuto un successo clamoroso. e loro mi hanno detto, guarda il tuo personaggio è simpatico. E io ho capito, leggendo le sceneggiature, che essere simpatici per la Rai di allora era fare tantissimi giochi di parole. Allora a me i giochi di parole mi fanno venire una voglia di nuocere incredibile. Cioè ne puoi fare due da genio, ma due da genio in un anno che io mi disegno. Ma questo era tutto, cioè lui parlava con i suoi pazienti, con gli amici, seduceva. Cioè lui diventava irresistibile facendo dei giochi di parole. E io ho detto, guardate, io ve lo dico con tutto il cuore, io non sono capace. Cioè non sono la persona giusta. Per fortuna c'era un regista coraggioso che invece mi faceva fare quello che gli dicevo guarda, ok, so cosa devo raccontare, facciamolo succedere, sapendo qual è il contesto, però facciamolo succedere. Dopo due settimane questi della Rai sono venuti da me, il produttore mi ha detto ma lo sai Sermonti abbiamo capito che questo tuo modo di recitare senza recitare funziona. E io ho detto, vabbè, allora questa, e poi quella è una vera scuola, cioè perché comunque lavori con dei ritmi mostruosi, cioè chi fa il mio lavoro sa, cioè se tu hai cinque ore per fare una scena o venti minuti, cioè cinque ore e trenta ciak o venti minuti e due ciak, il risultato, poi gli attori spesso quando guardano le loro cose vorrebbero che magari una scena che non gli piace ci fosse la didascalia sotto, ma qui cazzo però eravamo in straordinario, c'eravamo tutti quelle macchine al cielo, c'eravamo freddo da madonna, erano le sei di mattina, ma non si può, per cui tutto fila, però in realtà quella è stata una scuola di, in realtà di grande improvvisazione, cioè poi io facevo, mi facevano un po' fare, avevano capito, poi per fortuna la prima serie è andata bene, io ricevevo un sacco di lettere, c'erano le lettere, e siccome ero un imbecille, ero veramente un coglione mitomane, io volevo combattere il sistema da dentro, ok, per cui ho detto, ok, io adesso vi dico quanto è brutto questo medico in famiglia che state guardando, per cui tutte le persone che mi fermavano, le ragazzine, gli autogrill soprattutto, io chiedevo alle persone, no, gli autogrill non ci si potevano andare, cioè se io mi è capitato due o tre volte in autogrill di vedere arrivare un pullman, i pullman, e poi non c'erano i telefoni per fortuna a quei tempi, per cui facevi l'autografo, e io però me l'ho messo in testa, siccome ero un coglione, che comunque io ti faccio l'autografo, ma me lo fai pure tu, per cui io avevo uno scatolone enorme di autografi, di gente che pensava, ma che cosa fa questa, ma che c'ha, che problema c'ha questo, poi ho capito che era una minchiata di proporzioni incalcolabili, in realtà ho capito anche che ero proprio stronzo, nel senso che se poi, al di là di quello che io, come dire, pensavo del racconto medico in famiglia, dell'oggetto, sapendo dove si faceva, ma se io incontro una ragazza di brindisi, di 14 anni, che si è emozionata tanto a vedere quella cosa, che faccio? Ti spiego che non è giusto? Che hai sbagliato? Sei una merda! Cioè, ma chi ti credi adesso? Allora non lo fa, cioè, non so come dire, però ci ho messo un po' a capirlo, ci ho messo un po' a capirlo, e ci sono tante persone in questo paese, ve lo voglio dire, è vero, che hanno scelto di fare medicina, è vero, è vero, fanciulle soprattutto meridionali, e questo lo dobbiamo dire. Eh sì, perché poi sono quelle che adesso rincontro, che avevano magari 20 anni fa, avevano 10 anni, 12, adesso ne hanno 30, 32, e sono tutte laureate, dottoresse, che mi incontrano ancora adesso e mi dicono, io sai che faccio questo mestiere per colpa tua, queste sono cose che ti riempiono a cuore. Ho anche merito, comunque, i medici, i nostri eroi. Porca miseria, porca miseria. Quindi, mentre lo facevi, ti faceva cagare, cioè, si può dire. Che cosa? E merito in famiglia. Beh, diciamo, non era il mio genere. Ok. Cioè, nel senso, io volevo fare il critico dei cagli di cinema, io ero un cinefico, snob, per cui non c'avevo la televisione, non era una cosa che mi interessava, anche la fotografia, diciamo, non era proprio una cosa che mi toglieva il fiato. Dopodiché, come palestra d'attore e anche con moltissimi colleghi con cui ho lavorato, c'era gente veramente di altissimo livello, c'è gente ancora che, nonostante il medico in famiglia, è ancora mia amica. Cioè, ci continuiamo a vedere. Per cui, quella, diciamo, quella cosa un po' sprezzante di sputare nel piatto... Anzi, io ho fatto una cosa terribile, perché io avevo firmato per due serie, perché funziona così. Se tu non ti conosce nessuno, siccome io avevo fatto un anno e mezzo dei provini che erano... Sì, ti prenderemo pure, ma non ti conosce nessuno, e tu gli dici... Ho capito? Hai capito? E dunque, invece, era successa sta cosa. Ho dimenticato quello che dovevo dire, che era una cosa fondamentale. Hai firmato per due serie? Ah, no, certo. Per cui ti pigliano, non ti conoscono, ti fanno firmare per due serie. La prima, li paghi tu, praticamente. Cioè, ti chiedono un qualcosa. Cioè, non ti danno niente. La seconda, ti danno il doppio di niente. Ok? Per cui tu lavori per due anni, che... Cioè, se tu pensi a quello che poi succede dopo, quando vai avanti con questo mestiere, è imbarazzante. Ok? Però lavori per due anni. Dopodiché sei libero. Per cui io, già dopo la prima, manifestavo al mio agente, che invece non vedeva l'ora che la facesse, perché lui prendeva la percentuale sul niente. Però, però, era una cosa che mi rendeva molto popolare, per cui era il trampolino. Poi sono andato a incontrare questo della Rai, che mi aveva detto, quando io gli dicevo che non volevo fare più il medico in famiglia, che mi aveva detto, tu sei un attore Rai. E io gli avevo detto, ma cos'è il futuro del verbo attorare? Attore Rai, attore Rermo, che cazzo vuol dire? Cioè, io faccio l'attore, se posso non fare questo tutta la vita. Ecco, dopo due serie, alla prima serie non potevo perché ci fanno pagare una penale che andiamo a vivere da un'altra parte. Ho fatto la seconda e poi ho iniziato il mondo di Boris, che è stata la svolta, perché io mi sono potuto prendere per il culo, che è una cosa incredibile. Però, nonostante io abbia fatto, dopo aver fatto una o due serie di Boris, non mi ricordo, io sono tornato a farne un'altra del medico in famiglia. Proprio per... Sai perché? Perché mi sono ripreso tutti i soldi che non mi avevano dato, ok? Per cui... E poi, siccome questa serie è dove io sono tornato, e ancora i miei amici mi odiavano perché gli avevo fatto spostare le riprese di Boris per fare il medico in famiglia, che era una cosa porno. Dopo, siccome questa sesta serie era andata bene e tutto, mi hanno detto, no, vabbè, te ne puoi andare. E io gli ho detto, no, mi dovete far morire. È un po' Boris, cioè io voglio defungere, io voglio morire. Devo morire, ma no, ma viene a fare la prima puntata. No, voglio morire, morire lontano. E infatti pare che io sia morto in Africa. No, è vero, adesso non me lo ricordo. Io c'avevo... Io c'avevo i miei amici che continuavano a fare il medico in famiglia, che mi dicevano, sono due giorni che stiamo a guardare la tua foto, e piangiamo perché sei morto, capito? C'era mia figlia che sembrava una bambola assassina. C'aveva questa frangetta con questi occhi di ghiaccio, che faceva papà morto, papà morto, mi mandavano dei piccoli video. Una cosa terrorizzante. Però finalmente sono morto, perché se tu non muori, prima o poi ricicci fuori. Ti richiamo, certo. Certo. Per cui mi sono tolto il suo sfizio e poi ho proseguito con Borisetto, diciamo. Ma infatti questa... Ma che infatti aspetta, tu sei morto, perché oggi mi sono andato a studiare, mi sono rivisto tutti i riassunti. Sei morto, ma però tipo, cioè, finiva la stagione che eri... Ero vivo. Eri vivo. E certo. E poi comincia la stagione, però comunque è morto. Cioè, tipo... Quindi letteralmente odimo. Sì, sì, tipo voce narrante. Sai cos'è? Che loro giustamente dicono, tu devi morire tra una serie e l'altra. Eh. Perché se mi mori all'inizio della serie, poi stiamo a piangere per 13 puntate. Ah, certo. Per cui tu sei già morto e digerito. Poi ogni tanto uno fa una lacrimuccia, che guarda... Si vede la fine del lutto. ...o la bambina dice a scuola, quando gli dicono, tuo papà dov'è? Eh, papà morto. Eh. Però non possiamo farti morire là. Per cui tu sei morto in Africa. Io ho detto, vorrei essere morto su una mina. In Africa. Invece mi sa che sono morto male. Forse è un incidente in macchina, forse, mi sa. Io ho detto, fare una cosa un po'... Invece è una roba un po' misera. Non me la ricordo, però sono morto.